Ha pensato a un errore umano? Penso a un errore umano, sicuramente, perché è impossibile. È impossibile, c'è sempre un errore umano quando succedono queste tragedie, sempre. Ma sembra però che non riuscisse più a governare il mezzo, tant'è vero che poi ha scondato il garrei. Ma è ovvio perché gli è scoppiato una pneumatica, è normale, fermati, c'è modo e modo. Quando aveva sentito il suo fratello in ultima volta?